Prima di iniziare questo episodio vi ricordo che in descrizione trovate un link dove potete acquistare The Sims 4, le sue espansioni e un sacco di giochi per PC e con sal scontati, anche in pre-order. Utilizzando quel link voi risparmiate e allo stesso tempo date un contributo concreto al mio canale. Ciao a tutti, Dreamleck Moon vi da il benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida. Ci siamo lasciati esattamente in questo punto la volta scorsa, adesso Frida sta giocando un po' col telefono, certo è un luogo un po' strano per giocare col telefono dato che sicuramente qua non prende. No, non è vero, continuano a chiamarla. Comunque andiamo avanti con le nostre missioni perché oggi voglio completare questa pietra miliare che ci chiede di compiere 5 missioni per la fazione delle caragne, per cui oggi tenteremo di completare ben 2 missioni. Quindi andiamo subito dal nostro amico amicone. Sì certo, per cui richiamoci alla taverna. Taverna? Taverna? No? Dove caspio è la taverna? Non me lo ricordo mai. Ah ecco qua, mi perdo in questo posto eh. vai qui e cerchiamo il nostro best friend, Ondo. E dato che ci siamo possiamo anche berci un drink, perché no? Un fuoco di Blurg. E chiedere... Oh Frida è ancora qua, è certo che è ancora qua, cosa pensavi? Ciao Ondo, come va? Mi hai preso una bevanda, vedo, grazie. E vai c'è Frida, ma tu ci conosci? No, non ci conosci. Insomma come butta da queste parti? Come vuoi che butti? Cioè vi siete visti tipo qualche che ora fa? Ah, hai pure imparato a prepararlo, brava. Bene, vediamo... Chiedi di vedere le missioni. Facciamoci un'altra missioncina. Io e Doc siamo rimasti molto colpiti dalla tua intraprendenza. Beh, chi è che non riesce... che non... scusate, che non rimane colpito dall'intraprendenza di Frida? D'altronde è la regina dell'intraprendenza. Abbiamo un altro piccolo favore da chiederti. Niente di complicato, credimi. Certo, gli crediamo, sì sì. Se accetti, incontra il nostro contatto a bordo del Millennium Falcon. Si sta nascondendo dal primo ordine, ma sospettiamo che presto scopriranno dove si trova. Con la tua astuzia e le tue abilità informatiche potresti sviare il primo ordine dalle sue tracce. Non esiste persona più adattata di te a questo compito. Ho disposto a prendersene carico, ma è proprio questo che... è proprio per questo che mi piaci. Non sono capace di leggere stasera, ragazzi. Non ci vedo. Il rischio è il nostro mestiere, dico bene? Sappiamo benissimo che con la prudenza non si fanno i soldi. Beh, sì, giusto. Va bene, allora andiamo da questo tizio. Speriamo che non sia nulla di troppo complicato. Parla con Ciubecca. Ah beh, il tuo famoso amico è Ciubecca. Certo, sul Millennium Falcon. Ok, tanta qua portata di mano. Parla con Ciubecca. Vediamo dove ci porta questa volta il nostro Ciubi. Beh, da nessuna parte. Dobbiamo solo parlarci, non dobbiamo andare in giro. A Zonzo. Se non con la scopa, a quanto pare. E Fred è felice di essere qua. Cioè, della serie. Dovrei tornare a casa mia, dai miei figli, da mio marito, ma tutto sommato questo posto non è male. Certo. Se sei sicura che si tratti di un incubo non è male. Sì, ma dato che non stai dormendo, perché tu non dormi mai. Ciubecca! Oddio! Pensavo che non l'avrei mai visto. Invece, eccolo qua. Sì, va bene. Certo, Ciube. Ti crediamo. Ok. Va bene, quindi. Codifica i registri del primo ordine su Ciubecca. Fai rapporto Ciubecca. Viola a qualsiasi penne... Pennello. Vi assicuro che non sono ubriaca. Viola a qualsiasi pannello di controllo nel quartiere del primo ordine per codificare i dati sulla posizione di Ciubecca. Ok. Allora, andiamo al quartiere del primo ordine. Qua. Non siamo ancora andati qua all'accampamento della Resistenza. Spero prima o poi di vederlo. Sì, andiamoci da soli. E vediamo di violare un pannello. Avremo materiali per farlo? Chi lo sa? Beh, lo scopriremo presto. Oh no, la nostra Judith sta svanendo. A disagio perché? Ah, sì, perché hai il palato raffinato. Analizza. Prima di tutto, sicuramente. Non sono più sicura che fare queste cose vada bene. Beh, certo che non va bene, Frida. Cioè, non dovresti neanche chiedertelo. Però, stiamo qua, ci tocca ballare, balliamo. Nessun sistema di sorveglianza rilevato. Continua ad analizzare. Ok. Analizza. Però qualcosina siamo riusciti a capire. Cioè, manumissione dei tasti non va bene. Dobbiamo o riscritturare il codice o falsificare dei codici di accesso. Io propendo più per la falsificazione. No, davvero. Oggi, allora, è la fine di una settimana che è stata particolarmente dura e intensa per cui chiedo di scusarmi davvero se dico stupidaggini, se mi si arrotola la lingua e quindi non riesco a parlare ma davvero quando sono stanca perdo la capacità di parola. Quindi, detto questo mi scuso e andiamo avanti. Oh, riscritturare il codice. Proprio quello che non pensavo che avremmo dovuto fare ma vabbè chi sono io per giudicare? Non sono io l'esperta è Frida. E vai! Uh, raggiunto il 10 di programmazione. Bene! visto che questa cosa serve perfetto la nostra super sim ha massimizzato un'altra abilità. Dubito che qua impareremo erboristeria però eh, mai dire mai. Perfetto dobbiamo quindi solo tornare da Chubek no, dobbiamo codificare prima di tutto i dati sulla posizione di Chubek. Sì, tutto sommetto mi piace stare qua. Fiu, eccomi qui giusto in tempo il primo ordine è stato sul punto di individuare la posizione di Chubek non più. Va bene, allora torniamo da Chubek facciamogli il rapporto e vediamo se è finita questa missione perché cioè sarebbe un po' assurdo se fosse già terminata però come stavo dicendo poco fa mai dire mai. Benissimo torniamo sul Millennium Falcon fai rapporto. Ok, io speravo di vedere Chubek proprio materializzarsi fuori dal Millennium Falcon però ahimè temo che non accadrà. però mai dire mai è il motto di questo episodio d'altronde giusto? Facciamo rapporto missione compiuta bravo bonus controllo all'inventario del sim un altro ortame metallico ma che strano va bene per cui una missione è andata andiamo subito a procurarcene un'altra per cui chiedi di vedere le missioni e stiamo andando come fulmini davvero come fulmini ce l'abbiamo quasi fatta poi cosa ci manca corrompi un assaltatore del primo ordine questo è interessante ruba crediti da tre pannelli di controllo bara e vinci a sabac fantastico sempre a bere questo tizio non ci credo che poi si fa domande strane frida eccola qua e quindi questa la voglio fare assolutamente quindi sì facciamo questa che non tenterò neppure di leggere ma vabbè riusciremo a capire cosa vuol dire assisti sul becca sul millennium falcon raccogli rifornimenti per la missione sul falcon opzionale connettore droide un blaster e un comlink cos'è un comlink vabbè niente torniamo sul millennium falcon episodio dedicato ancora una volta al millennium falcon d'altronde è un po' il protagonista di star wars il millennium falcon giusto più o meno dai è un simbolo è un un simbolo sì cioè scommetto che la maggior parte degli appassionati di star wars quando pensa star wars pensa al millennium falcon giusto chi non vorrebbe salirci almeno una volta appunto ciao ciao frida rugisce chubecca sembra che l'alternativa sia tra il contrabbando di passeggeri fuori dal pianeta o quello di merci ma scortiamo la passeggera questa volta dai abbiamo fatto anche troppo come per quanto riguarda le merci quindi scegliamo un'alternativa mi sono persa ah ecco rara rugisce chubecca due viaggiatori distinti stanno chiedendo un passaggio fuori dal pianeta per ora frida può coglierne uno solo e non possiamo scegliere lui ma scegliamo lei tuilek anziana una tuilek anziana e dalla voce dolce sta chiedendo un passaggio fuori dal pianeta aiuteresti una vecchia tuilek a tornare a casa su rilotte vorrei fare una visita sorpresa ai miei nipoti pagherò un supplemento pur di partire immediatamente che dolci parole negozi a un prezzo più alto è perché siamo qua mica mica dormire noi inizia a lamentarsi ti sto dando tutti i crediti che ho per questo viaggio di ritorno su rilotte davvero mi chiederesti di più per far sì che io possa vedere i miei nipoti beh e frida vorrebbe rivedere i suoi figli per cui fai un po' tu tutta un tratto frida si sente incredibilmente in colpa per averlo addirittura chiesto beh giusto dal punto di vista di frida è giusto andiamo dopo qualche finiscono e finiscono addosso alla twillac cosa si interrompe mentre squadra chubecca chi è questo bel wookie frida interviene per rispondere per lui menti o presenta chubecca menti menti nel dubbio menti sempre frida presenta con orgoglio il proprio peloso amico come bucecca pensando che l'astuto stratagemma aiuterà chubecca a non uscire allo scoperto il sorriso della twillac svanisce riconoscerei questa belva a un chilometro di distanza chubecca all'improvviso il suo volto cambia svelando nella vera forma è una claudite una muta forma prosegue sono qui per riscuotere la tua taglia il primo ordine ha messo una bella somma sulla tua testa mani in alto urla puntando il proprio blaster su chubecca segnala il droide estrai il blaster finge di implorare estrai il blaster frida combatte ormai è allenata frida rapida come un lampo estrai il proprio blaster e apre il fuoco sulla cacciatrice di taglia colpendo l'arma che impugna e che cade così a terra mentre la claudite dite quello che volete barcolla dallo stupore ciubecca la ferra e la blocca frida deve sbarazzarsi della cacciatrice di taglie visto che si trovano già in mezzo al nulla frida si domanda se sia possibile scaricarla su un pianeta isolato ottima scelta frida lascia su nevarro che è più facilmente pronunciabile raggiunto livello 2 di missilistica cioè marisol sarebbe entusiasta di venire qui e invece c'è finita frida maledizione frida e ciubecca tra parentesi se non la seguite seguite anche la mia nozzo barricio all'angelo sono la terza generazione quindi la generazione gialla che dedica la propria vita alla missilistica per l'appunto comunque frida e ciubecca lasciano la cacciatrice di taglie sulla superficie del roccioso pianeta vulcanico un ambiente di sicuro appropriato per una simile testa calda frida la priva di tutto ciò che ha di valore tra cui i suoi crediti e un piccolo contenitore sigillato esaminerà poi con cura gli oggetti quando tornerà all'avamposto della guglia nera oh torna abba tu e ci abbiamo pure guadagnato qualcosa qualsiasi cosa sia pietra milare completa perfetto e adesso siamo una rog delle canaglie grado 3 abbiamo 3487 crediti interazione ruba crediti racconta storie entusiasmanti di contrabbando e vabbè sì e e e e abbiamo ricevuto wow un'impugnatura di spada laser pace giustizia virtuosa wow wow perfetto missione compiuta benissimo adorabile dove sei frida sei ancora a bordo tenta l'atterraggio ma è già atterrato corrompi un assaltatore del primo ordine quindi raggiungi il grado 2 siamo già al grado 3 e quindi trova un assaltatore e seleziona corrompi ruba crediti da 3 pannelli di controllo seleziona un pannello di controllo e scegli un'interazione di violazione una volta riuscita scegli ruba crediti e bara e vinci a sabac beh io direi che deve divertirsi in effetti per cui quante volte deve farlo ah una volta per cui va bene torniamo al 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 dove diavolo è qua e vediamo se riusciamo a barare e vincere a sabac per cui sì ma ci sono altri sì ma cosa sta dicendo ah ma non è un tavolo da sabac questo no dream non lo è vabbè vai qui e magari qualcuno si unirà eh sì adesso sì gioca sabac con non si può giocare e barare forse è un'interazione ah gioco unisciti a una partita di sabac dopo l'inizio della partita clicca sul tavolo ok 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 gioca con no stian è andato il nostro amico meglio non inimicarsi hondo per cui facciamo con listian vai nuovo amico a me barista no 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 è ralla il barista nuovi amici dai dov'è sto tizio così vediamo se riusciamo a terminare questo episodio con con un altro mattoncino di questa aspirazione gioca logicamente no devo cliccare su di lui accusa di barare fantastico ma vediamo non ah bara sabac perfetto ottimo vai frida facci vedere di cosa sei capace fai la tua mossa straniera tanto questa non ci capisce niente di sabac certo lo dici tu sicuro che non ci capisce niente beh sì io in effetti non sono molto pratica di questo gioco d'altronde sono qua da pochi giorni in effetti tre giorni forse quattro tre più tre che quattro hai già barato beh ti insegnerò un po' di trucchi straniera va bene vediamo che trucchi puoi insegnarmi sono tutto orecchie però di colpo non è più tanto fiducioso lui no abbiamo già barato non si può più barare a quanto pare vabbè noi ci proviamo intanto lei si sta divertendo per cui meglio così qualcuno venga a ripulire questa roba sai ti toglierò un sacco di crediti sì beh è probabile però prima o poi mi rifarò se proprio dovesse essere ti prego si si buono con me no hanno tentato entrambi di varare e non è andata bene a nessuno dei due in attesa di un'occasione è andata male se però Frida continuasse a giocare magari alla fine potrebbe arrivare la sua occasione vediamo bara vai bara l'ha fatto adesso sensazioni buone quindi questo tizio è buono beh sarà anche buono ma è molto triste beh comunque oggi ho falsificato un sacco di cose sì beh non falsificherai le carte carina perché io ho la vittoria in pugno questo è veramente bravo eh Frida non si può sempre vincere va beh lascia stare che dobbiamo fare socializzare un po' va bene allora parla con questo tizio presentazione amichevole facciamo dai non non cerchiamo di flortare è pure troppo triste per cui lascia stare presentati amichevolmente e poi dove stai andando Frida a presentarti è qui vabbè dopo questo io direi che possiamo salutarci qua per questo episodio abbiamo completato una pietra miliare per cui sono felicissima vieni qua a presentarti santo cielo eh quindi se questo episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like iscrivetevi se siete nuovi mi raccomando ricordate anche di attivare la campanella vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutte le mie serie e i social ai canali dei miei amici youtuber al mio secondo canale e all'affiliazione instant gaming tramite il quale potete acquistare videogiochi a prezzo scontatissimo aiutando anche al contempo il mio canale per cui detto questo io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti